Siamo veramente orgogliosi e questo è un evento che per noi è molto importante perché è l'inizio, proprio devo dire l'inizio, di un progetto di promozione e comunicazione della nostra città, ma anche di tutto il territorio, riguardo alla qualità della vita, al cibo e su questo il nostro territorio è molto forte perché ha tante aziende legate al biologico naturalmente, ma anche tanti operatori che ci credono, per cui ristoratori, albergatori, imprenditori che in qualche modo promuovono la città e questo evento tema Biofest va proprio in quella direzione. È il primo evento del tema Biofest, ma sono sicuro che avrà un grande successo e quindi si ripeterà negli anni. Una prima edizione bella, che praticamente coniuga tante persone. Io veramente sono fiera del risultato ottenuto, anche grazie all'amministrazione del Comune di Urbino che, sono sincera, è sempre stata presente, abbiamo fatto tanti incontri, e tutto questo in brevissimo tempo. Io ho sempre creduto che il distretto Bio Terre Marchigiane sia uno strumento innovativo e perfetto per lo sviluppo sostenibile nel nostro territorio. La cosa eccezionale, unica, per l'appunto che identifica questo evento come un evento speciale, è che siamo tutti in un unico luogo per due giorni all'interno del Collegio Raffaello. Tutti possono fare esperienza di vedere come nel distretto il settore primario collaboro con quello terziario e come entrambi interagiscono con quello secondario. Quindi abbiamo show cooking, che utilizzeranno i prodotti dei nostri soci agricoltori, e avremo anche laboratori artistici locali, che sono la testimonianza di quello che è, diciamo, l'attività artigianale che si stanno perdendo. Sarà bellissimo, io con tutto lo staff siamo carichissimi perché comunque ci siamo impegnati tanto, i produttori sono veramente felici di partecipare, e già si inizia a sentire rumore in città, soprattutto perché dicono finalmente una luce su quello che è tutto il nostro territorio. Abbiamo tante materie prime strepitose e i ristoranti nel loro cercano di valorizzarle, ma un produttore in stretto contatto con chi verrà a tema bio sarà sicuramente una cosa superiore. Abbiamo deciso di valorizzare una figura fondamentale nei ristoranti, che è quella delle cameriere, che può diventare maître o manager, e accendere soprattutto un faro su una problematica molto evidente nei ristoranti, e iniziare a valorizzare questo ruolo. È fondamentale per far sì che i giovani tornino a fare questo lavoro, che è un lavoro fondamentale per il nostro settore della ristorazione.